comandante voi per cinque settimane svolgerete un'attività di prevenzione e di educazione stradale ci spieghi in cosa consiste sì il ministero ha previsto in occasione del la giornata mondiale dedicata alle vittime della strada rivisto per il 19 novembre ha previsto nelle cinque settimane antecedenti più o meno dei servizi in tutta Italia dedicati al contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e la guida sotto effetto di sostanze superfacenti quindi in tutta Italia ci saranno questi servizi e in alcuni casi ci saranno servizi con la presenza pure del medico della polizia quindi della questura di agrigento noi l'abbiamo svolto ad esempio lo scorso weekend negli altri fine settimana saremo da soli e svolgeremo comunque sempre questi servizi e in particolare nei luoghi dove noi riteniamo che ci sia durante fine settimana più assembramento soprattutto alla presenza di giovani o dove comunque ci sono dei locali di intrattenimento insieme a come ha detto lei insieme a questo aspetto diciamo di controllo su strada c'è anche l'aspetto incontri con ragazzi giovani o comunque la cittadinanza c'è l'organizzazione di eventi in sostanza e dedicati quindi alla prevenzione soprattutto quindi unire sia l'aspetto repressivo ma anche durante i servizi prevale pure l'aspetto preventivo tanto che il ministero ha previsto di avvisare noi di dire vedete che in queste cinque settimane faremo questa tipologia di servizi ma quindi unire quell'aspetto che sia repressivo che preventivo un aspetto esclusivamente preventivo che è quello di incontrare ragazzi giovani e comunque anche altre fasce d'età organizzando degli eventi eventi che noi stiamo predisponendo in alcune scuole della provincia di agrigento durante proprio il mese di novembre più o meno li stiamo prevedendo poco prima della data del 19 che è la data diciamo ultima dove si concluderà il tutto ed è appunto la giornata dedicata alle vittime della strada e ogni anno da alcuni anni a questa parte è una domenica del mese di novembre dedicata appunto alle vittime della strada. Senta comandante qual è la situazione che lei riscontra in particolare nella nostra provincia? Noi abbiamo la statale 115 che attraversa di fatto tutta la provincia e che è spesso teatro di gravi incidenti stradali purtroppo a volte causati, lei faceva riferimento dall'uso di sostanze stupefacenti alcoliche o dall'uso del telefono mentre si era la guida. Sì, ad esempio posso partire dai dati del servizio effettuato già la scorso fine settimana. Nello scorso fine settimana abbiamo trovato un conducente positivo all'alcol e tra l'altro un neopatentato quindi un ragazzo giovane, è stata una sanzione amministrativa perché il valore era fortunatamente basso quindi è stato sanzionato a livello amministrativo e poi abbiamo trovato un altro ragazzo che si è rifiutato di sottoporsi sia al test dell'alcol sia al test antidroga e quindi è stato denunciato per il reato di rifiuto. Il ragazzo che visto che noi abbiamo invitato a sottoporsi entrambi i test evidentemente aveva già una certa sintomatologia però si è rifiutato quindi la legge gli dà la facoltà anche di rifiutarsi ed è stato comunque denunciato per il rifiuto di entrambi i test. Quindi come già si capisce da questi dati ogni volta che noi effettuiamo dei servizi nel fine settimana nella provincia di Agrigento troviamo purtroppo sempre dei conducenti positivi all'alcol molto più raramente positivi alla droga anche per la difficoltà dell'accertamento della positività della droga che voglio ricordare qui brevemente a differenza di quello dell'alcol richiede un accertamento successivo e in più cioè lo stato di alterazione che sia attuale quindi oltre la positività ai test occorre lo stato di alterazione questo stato di alterazione può essere soltanto accertato da un medico per questo facciamo spesso dei servizi con i medici dell'alcolico non richiede questo accertamento ulteriore perché è implicito nella positività nell'apparecchiatura cioè chi assume alcol lo assunto prima poco prima o comunque in una fase prossima a quella del controllo mentre chi assunto delle droghe può averle assunte anche ore e anche addirittura in alcuni casi giorni prima perché la positività rimane più a lungo ovviamente tutto ciò dipende io non sono un medico ma tutto ciò dipende ovviamente anche dalla tipologia della droga però richiede comunque in ogni caso l'attualità dello stato di alterazione cioè il conducenti deve essere alterato in quel momento quindi per questo a volte la positività i dati della positività delle droghe è inferiore rispetto a quelli dell'alcol ma certamente è un fenomeno che va attenzionato ugualmente ed è preoccupante ugualmente anche rispetto a quello dell'alcol è soltanto più facile l'accertamento ecco è più semplice per questi motivi che vi ho detto come avete sentito ci sono in atto delle proposte legislative in tal senso per quanto riguarda il test antidroga però al momento dobbiamo attendere ecco per capire bene come saranno e in che termini saranno quindi tornando sempre alla provincia agrigente abbiamo accertato nei fine settimana dove abbiamo svolto comunque questi accertamenti e anche durante la settimana quando abbiamo siamo resi conto che il conducente magari ha una certa sintomatologia e quindi abbiamo sottoposto al test che comunque è un fenomeno presente ma era diciamo scontato nel senso che è un fenomeno presente in tutta Italia purtroppo e quindi appositamente il ministero ha provvisto in questa occasione diciamo della giornata mondiale delle vittime della strada tra l'altro voglio dire qualcosa per la giornata delle vittime della strada noi nell'ambito dell'Unione Europea aderendo ovviamente siamo nell'ambito di un'istituzione sovraordinata a quella del nostro Stato abbiamo degli obbligi anche comunitari in tal senso l'Unione Europea ha l'obiettivo entro il 2030 di portare al 50% quindi diminuire del 50% il numero delle vittime della strada ed entro il 2050 quello di azzerarlo sono obiettivi ovviamente come voi potete immaginare ambiziosi ma è ovvio avendo in Italia ma anche negli altri Stati Europei un numero di vittime esagerato perché noi in Italia abbiamo più di 3000 morti all'anno per l'incidente stradale che detto così può non far capire l'entità del fenomeno ma dicendo che questi 3100-3200 divisi per i giorni dell'anno fa circa 8-8 virgola qualcosa al giorno quindi adesso così ha più impatto e fa capire che è un evento che dobbiamo a nostra disposizione e che quindi dobbiamo imporci degli obiettivi ambiziosi perché ovviamente ponendoci degli obiettivi ambiziosi possiamo comunque avvicinarci a quell'obiettivo in ogni caso ovviamente quindi